Il mio intervento invece vuole dare dei termini di riferimento per contestualizzare questo rapporto all'interno del quadro normativo che regola appunto in qualche modo la valutazione e la protezione degli alluvioni o anche delle frane, io in particolare mi occupo di alluvioni e anche il rapporto di questo strumento, di questa relazione con altri strumenti valutativi che sono più prettamente cogenti e previsti da le orme. Quindi come già avevo anticipato il Bernardo, le ringrazio per avermi aperto la strada, fatto strada, la norma quadro per valutare e gestire il rischio di alluvioni è la direttiva alluvioni del 2007, il numero 60 che è stata ricevuta poi con decreto legislativo 49 del 2010 e le sue modifiche integrazioni e appunto serve a ponire il quadro per valutare e gestire i rischi alluvioni attraverso quel meraviglioso e complesso strumento tecnico normativo che è il piano di gestione dei rischi alluvioni e vedete in seguito che lo indicherò tramite questo acronimo P.G.R.A. per ovvia semplificazione. Il piano nella sostanza è un processo ciclico che si aggiorna ogni sei anni e costa di due fasi fondamentali, la fase di valutazione e la fase di gestione. Nella fase di valutazione abbiamo un primo momento, una baseline, quindi una fase iniziale in cui tutte le conoscenze erano messe a sistema, soprattutto quelle sugli eventi passati, sugli impatti di questi eventi e sono individuale le aree a potenziale rischio di alluvione. Noi come Italia rispetto ad altri paesi questa fase l'abbiamo, diciamo, in qualche modo saltata perché avevamo già un'esperienza di lottatura, avevamo già individuato queste aree. Tuttavia la razza di questa fase è proprio quella di individuare quelle aree dove poi andare a dettagliare la valutazione attraverso modelli, attraverso valutazioni più fini. La valutazione vera e propria è quella che viene fatta attraverso la lottatura dalla pericolosità del rischio e quindi queste mappe devono definire qual è il stato del territorio, la risposta del territorio rispetto a verificarsi di eventi alluvionali di determinata intensità. La pericolosità come aveva già prima introdotto il Presidente, le mappe di pericolosità vanno a individuare quelle aree che possono essere allagate dai lenti con certe probabilità di accadimento P1, P2 e P3, quindi queste aree sono indicate come delle fasce decenti, ciascuna caratterizzata da una diversa pericolosità, cioè la fascia P3 che è quella in rosso e rosa, appartengono alle aree ad alta pericolosità, sono quelle che vengono usate più spesso, ovvero dopo quello che si dice tempo di ritorno ha costituito la vita di essere allagate, almeno una volta ogni decina di anni. Nella fascia P2 invece abbiamo le aree a media pericolosità, cioè quelle allagabili per tutti gli eventi di media probabilità, quelle che più o meno hanno un tempo di ritorno, 100-200 anni. Nella fascia P1 abbiamo infine le aree a bassa pericolosità perché sono quelle che si arragano meno puntamente e quindi sono gli eventi che hanno una bassa probabilità tuttavia a un vasto impatto come potete vedere. Ora se ci concentriamo ad esempio sulla fascia P2 che poi è quella che deve impingatoriamente essere riportata per la riportissima ufficiale come diceva Bernardo verso la Commissione europea, la fascia P2 sarà andata dall'inviluppo, quindi dall'insieme delle fasce pericolosità alta, quindi quella rosa e quella media. Portando questo poi a copertura nazionale otteniamo la mappa delle aree pericolosità dell'anica media con il tempo di ritorno da 100-200 anni che è una delle elaborate che poi illustrerà Carla in seguito. La valutazione dicevamo poi per quanto riguarda la parte delle mappe costante delle mappe di rischio che per la norma europea e la norma attuale italiana è sostanzialmente il numero e la tipologia di variamenti esposti, quindi le macro categorie come popolazione, attività economica e vari culturali e ambientali delle diverse aree pericolosità P, quindi P1, P2 e P3. E queste varie di rischio possono essere graficate, mostrate e pubblicate in questo modo attraverso un web GIS dove a seconda delle diverse fasce di pericolosità abbiamo le tipologie di variamenti esposti e la loro magnitudine e la loro intensità, oppure in questo altro modo in cui abbiamo, come vedete, passando da pericolosità più alta a pericolosità maggiore all'estandosi delle aree e facendo per esempio riferimento alla popolazione a rischio dell'unione per il tempo di ritorno P2, avremo poi una mappa di questo genere che sarà sempre Carla nel tempo più avanti. Ora, dicevamo, le fasi principali di piano sono quelle di valutazione e di gestione e di gestione che entriamo nel vivo proprio della pianificazione e quindi la definizione degli obiettivi di piano, un altro obiettivo che è quello della norma, quello ovviamente di ridurre le conseguenze avverse degli ambienti sulla salute navale, sull'ambiente e tutti gli elementi a rischio e questi obiettivi sono chiaramente poi declinati a livello territoriale secondo le specificità e vengono al capito attraverso una serie di attività programmatiche, ovvero attraverso le misure di piano che possono essere di diverso tipo e su questo mi soffermerò voglio che poi sia chiaro anche come questo si collega al piano di Italia Sicura piuttosto che al RANDIS, in punto sono misure ad esempio come le strutture di difesa, come le norme che vanno a cura di rinco di strutture del suolo o come l'attività conoscitiva che a mio avviso è quello su cui si basa tutta la pianificazione della gestione. Le misure devono riguardare tutti gli aspetti della gestione di alluvione, non solo quello che è un odo della protezione e quindi quello delle strutture di difesa, ma la dimensione, appunto la protezione stessa, la preparazione e ripetizione dell'emissione. Sono proprio questi aspetti o questi criteri che poi vanno a classificare i tipi di misure secondo una codifica standardizzata, come è esplicitata nella video-reporting e come abbiamo noi illustrato un po' meglio anche attraverso esempi, attraverso delle linee di data visita che sono ovviamente scaricabili dal sito per meglio supportare poi i soggetti più importanti ovvero le attività di facevano e le direttionali. Faccio magari una tarapita azzurro, ma mezzurro tutte. Le misure di prevenzione sono quelle che nella sostanza giustano su valore e vulnerabilità degli elementi espossi in un'area, quindi vanno a tutelare, a evitare la perdita di valore ed evitare l'avvento di vulnerabilità, quindi come dicevo prima, piccoli sull'uso del suolo, dell'emodizzazione, adattamento di strutture come vuote il confine delle abitazioni, ma anche le mesture per aumentare la conoscenza, quindi aggiornare il quadro conoscitivo e il questo modo da mettere a rotte delle misure efficaci che appartenono alla riduzione del rischio. Le misure di protezione sono le misure che sono più note, sono quelle che poi vengono remontate, vengono gestite all'interno del piano del programma di Italia Sicura e sono quelle misure che riducono la probabilità di inundazione agendo sulla dinamica dell'alluvione, cioè nel modo in cui si formano e si propagano le piene. Abbiamo una serie di misure che sono quelle diciamo verde o naturali, quelle che vanno ad agire direttamente su processi pluriali, su meccanismi di formazione e sulla naturale capacità di nominazione delle piene, per esempio restituire spazio ai corsi d'acqua, ai vegetali, quindi vanno ad agire sul naturale meccanismo di invaso e poi di ritardo delle flussi da parte del bacino. Lo stesso tipo di misura può essere risalutato attraverso delle strutture, quindi abbiamo le misure M2, queste sono le politiche europee, per ritardare dei flussi attraverso casse di espansione o attraverso strutture che comunque invasano. Poi abbiamo le misure che favoriscono anche tutto delle piene e fluviali costiere, andando a accelerare i flussi a ridurre i livelli, come per esempio la realizzazione di argi nel programma di gestione dei sedimenti, quelle per migliorare il raggio urbano e ultime, ma non meno importanti, quelle di manutenzione delle opere di difesa. Come dicevo, tutte queste misure sono quelle che sono nel programma di Italia Sicura, ma quelle strutturali sono al momento nel repertorio nazionale degli interventi per la difesa del solo, quindi il RANDIS, seguiranno chiaramente le altre e sono disponibili ovviamente sul sito guarda di vista a questo indirizzo. Volevo sottolineare che una delle novità della direttiva all'Unione, in cui il piano di gestione del rischio è il fatto di trattare in maniera integrata sia le piene fluviali che con le costiere, cosa che prima non era in maniera integrata nello stesso piano. Le misure di preparazione sono invece quelle che riguardano esclusivamente le autorità e le attività di protezione civile perché vanno a migliorare la capacità della popolazione e del sistema di protezione civile e di affrontare i livelli, quindi sono tutte quelle attività che riguardano una previsione dell'editamento di emergenza, come per esempio il miglioramento di implementazione di modelli di previsione, dei modelli di monitoraggio ad hoc, i sistemi di supporto alle decisioni, ma anche l'attivazione dei residui idraulici, piani di emergenza e la stessa formazione degli operatori di protezione civile, così come le misure per crescere la consapevolezza della preparazione della popolazione e questo oggetto in particolare è l'editore campagna e la mossa dal Dipartimento di protezione civile che si chiama Il Norrisco, che è stata appunto a creare una cultura negli operatori nei volontari che fanno attività di supporto. Una novità fondamentale del piano di gestione di riscaldione di questa direttiva è che per la prima volta il tempo di credito, quindi l'integrazione, la pianificazione del bacino viene integrato nello stesso strumento col tempo reale, quindi con la pianificazione di emergenza. Questa è appunto, a nostro avviso, la novità principale. In questo modo si può gestire il processo dell'intero, un unico strumento e con la convergenza e la collaborazione di tutti i soggetti. Infine ci sono le misure di valutazione posterente, che sono appunto quelle che consentono il ritorno alla normalità, ma soprattutto di acquisire gli elementi informativi sulle dinamiche degli eventi, sugli effetti volessi e quindi il cosiddettale responsable, cioè di fare tesoro dell'esperienza una volta tragica acquisita per poter poi andare ad aggiornare i piani, ad aggiornare le mappe e quindi consentire a questo processo di pianificazione, un aggiornamento per partire da una sempre migliore consapevolezza delle cose progestive e una rifusione del peschio. Ora, le misure per essere rompate hanno bisogno di risorse e questa è una grossa limitazione e per questo motivo che la direttiva prevede una serie di azioni necessarie a priorizzare queste misure e a selezionarle applicando efficacemente. Appunto, una priorizzazione, la direttiva non non dà delle procedure, ma dice quali sono i fattori preferenziali per fare la realizzazione. Tra questi, preferire le misure in un win, cioè quelle misure che possono contemporaneamente consentire l'attuazione di più politiche, ad esempio la politica di tutela delle acque della direttiva acqua e quella di difesa dall'organizzazione della direttiva rubioni o di tutela delle aree protette e tra queste misure anche di favorire quelle che in qualche modo consentono di una naturale indicazione dell'alluvione, come le cosiddette misure verdi, lo spazio e termine eccetera e questo è un progetto già di diversi piani e di diverse linee guida sia di istra che delle regioni, ad esempio adesso ho detto che la collega Monica Guida della regione Emilia Romagna ha recentemente pubblicato delle linee guida proprio per gestire i processi pubblici in modo tale da favorire appunto la naturale indicazione dell'alluvione e non rivolgere sostanzialmente a strutture. Non perché questo sia un vero o male, ma perché anche in una maniera molto più economica di raggiungere lo scopo e necessità può favorire anche la realizzazione di obiettivi di altre polisi e di altre politiche. L'altra azione necessaria a scegliere a quali sono le misure, ovviamente il monitoraggio dell'estate di attuazione e in questo modo si riesce a capire se e come sono attuate le misure e quindi fare una verifica di dato efficace e, come dicevo prima, andare di nuovo ad aggiornare il piano e procedere verso una riduzione del rischio. Il piano quindi, vediamo un piano in processo, un processo in continua evoluzione in cui noi partiamo con le operazioni fondamentali e non abbiamo pericolosità del rischio in un certo momento, attuiamo le misure, queste misure dovrebbero, si spera ovviamente, portare alla riduzione del rischio, quindi in questo modo dobbiamo fare una nuova valutazione, attuare le misure, riduzione del rischio e via così. Questo per dire che, per esempio, il rapporto Ispra si colloca temporalmente in un certo periodo, quindi, ad esempio, per la riunione è una sola parte giornata a maggio di giugno del 2015 e per le prana settembre del 2015. Il miglioramento delle conoscenze e ragionamento porterà probabilmente anche delle differenze in alcune cifre, per esempio la popolazione sposta piuttosto che altre cifre nei plani di gestione che verranno pubblicati a fine marzo del 2016, questo lo dico perché ho già avuto molte domande, ormai questi dati riferiscono, per il semplice motivo che scrivono due fotografie in momenti diversi, quindi dobbiamo sempre ricordare che il piano è un processo e che le valutazioni che facciamo sono valutazioni tanto specifiche, quindi è molto importante questo come importante l'aggiornamento continuo e quindi è una delle informazioni e ovviamente la competenza per poterlo fare. Come già ho detto gli oratori che mi hanno preceduto, come sembra ovvio la conoscenza è il principio di tutto, il perché il piano è un processo di continuo aggiornamento, abbiamo bisogno di acquisire il quadro di quadro conoscitivo non solo per gli aspetti più prettamente, diciamo, naturali dove mai questo abbia un senso, ma anche per seguire lo sviluppo di consumo di essuoro e di uso del territorio in generale è proprio quello che poi determinerà la risposta rispetto a questi domande, quindi ci serve questo per definire il rischio, per orientare le scelte programmatiche e per rendere più efficace qualsiasi intervento strutturale o meno, quindi è ovvio che qualsiasi processo di gestione, qualsiasi strategia bisogna dei dati, possiamo governare, possiamo farlo efficacemente solo ciò che conosciamo e per conoscere dobbiamo investire, dobbiamo investire in conoscenza, quindi nel monitoraggio vero e proprio dei fenomeni del territorio, nell'incentivare i soggetti che promuovano questa conoscenza, ma che anche la mettono a sistema, per esempio la vendita del bacino, le regioni, creare figure professionali, quindi creare dei profili ad hoc a livello universitario e promuovere anche la ricerca di base di questo, questo è fondamentale perché senza queste conoscenze, soprattutto nel territorio caratterizzato da una forte dinamica come il nostro, non è possibile fare nessun tipo di pianificazione efficace, questo non è solo perché siamo un istituto di ricerca come Istra, perché noi facciamo anche attività di servizio tra l'altro, ma perché proprio è la maniera più economica per poi arrivare appunto a delle scelte consapevoli, efficaci e sostenibili. Questa è l'ultima delle mie diapositive, io ringrazio tutti e chiudo con un obiettivo. Grazie.